Allora, 22.05, buonasera, nuovamente in diretta, dopo questo indippo tecnico, naturalmente io chiedo poi l'UMI e la regia centrale se tutto va bene, altrimenti mi farà sapere se ci sono alcuni problemi tecnici, poi c'è stato anche un po' di maltempo e da quest'oggi ci sono delle difficoltà, ma comunque tutte superabili. Dicevo 22.05, tra qualche secondo scatta 06, in studio Massimo Bonella per l'Osservatorio Antimafia, il nostro settimana di approfondimento giornalistico, iniziamo dunque con una rassegna stampa della testata di Palermo All News antimafia2000.com, poi se ci sarà tempo anche uno sguardo alla home page di pinetoggtv.net, l'emittente di rete, testata giornalistica di Venezia diretta dal sottoscritto, alla regia centrale dicevo abbiamo Rosario Moreno che vediamo di fare un attimo una prova se tutto funziona bene. Allora, Rosario, tutto bene lì? Sì, tutto bene, chiedo scusa un attimo perché c'è stata una falsa partenza, come si suol dire, quindi è andato tutto bene, poi alla fine ero io che ho sbagliato una cosa, errore del regista in questo momento, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Un buonasera a te Massimo, buonasera a tutti i nostri amici del condominio, ricordo ai nostri amici comunque che c'è una chat su Facebook, una chat sul sito e adesso si è aggiunta anche una chat sul nuovo sistema dove trasmettiamo che è Periscope che ci permette di andare anche su Twitter, quindi Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, sito, come Web TV e quanto riguarda le web radio, tutte 11 le web radio sono online in questo momento. Caro Massimo, io ti ripasso la palla come si suol dire anche se non è, non stiamo giocando a calcio, però vai. Benissimo, ecco, vediamo di segnare in rete, no? Vedo infatti la porta vuota questa sera e possiamo quindi, allora, decollo effettuato, tutto regolare, possiamo quindi partire con la nostra trasmissione grazie a Rosario Moreno sempre molto attento al controllo sia delle web radio ma anche per quanto riguarda la messa in onda delle dirette. Radio Sarese TV che tra altre cose ricordo molto spesso è in diretta, segue anche gli eventi urgenti nel senso che quando ci sono delle notizie di rilievo diciamo tipo non so emergenze, terremoti o avverse condizioni meteorologiche noi siamo sempre sul pezzo pronti a informarvi a tempo reale di tutto quello che sta succedendo sempre naturalmente facendo i conti con le nostre forze perché siamo in pochissimi qui credo che non si arrivi alle dita di una mano però il lavoro va avanti i risultati si vedono questo possiamo dirlo tranquillamente non siamo noi che lo diciamo ma tutti possono constatare dai nostri palinsesti benissimo allora dicevo iniziamo con le rassegne stampe poi ci sarà una edizione speciale di Pineta Oggi Report con l'intervista esclusiva al PM di Palermo Antonino Di Matteo realizzata da sottoscritto a Palermo il 27 maggio scorso in occasione della presentazione del libro del titolo Avanti Mafia di Saverio Lodato dunque volevo dire a proposito su questo speciale che dopo l'intervista di Nino Di Matteo ci saranno altre interviste quindi abbiamo dei personaggi noti anzi notissimi ad esempio la notatrice Lunetta Savino che tutti ricorderete che la conoscete anche perché proviene da una importante serie di produzioni per la televisione dove ha fatto veramente parlare come ricordiamo ad esempio nei panni della madre di Peppino Impastato tanto per dire una e poi è nota anche per tutto il suo repertorio la sua vasta gamma che si va dal brillante al drammatico da un medico in famiglia a appunto produzioni come questa che vi ho citato pochi istanti fa a seguire l'importante bravissimo giornalista Saverio Lodato giornalista scrittore giornalista antimafia poi alla fine potete anche ascoltare una intervista alla scorta civica ci sono due persone che ve le presento fin da adesso Armando Carta molto attivo sul campo antimafia nella sua scorta civica presente sempre nelle manifestazioni e altresì Adriana Gnani che appunto spiegherà quanto è importante parlare di legalità nelle scuole ecco questo è un po' diciamo il programma di questa sera allora partiamo subito con la rassegna stampa vediamo anche di correre un pochettino perché è tardi sono le 22.10 già allora iniziamo con le notizie scusate con gli articoli in primo piano posti nella home page di antimafia2000.com allora il libro di Lodato Avanti Mafia parola alla stampa di Giorgio Bongiovanni poi ancora infinito crimine la mafia più ricca del mondo di Giorgio Bongiovanni qui abbiamo anche un video dunque si prosegue e siamo sempre a taglio primo comunque il filo rosso tra la mafia e la politica di Giorgio Bongiovanni che ricordo il direttore di antimafia2000 poi nuovo zig zag il governo c'è di Giulietto Chiesa strage dei Giorgofili 25 anni dopo si riparte dei mandanti esterni di Aaron Pettinari sulla destra trovate una fotografia con sotto una fotografia di Savergolo Dato e di e del attuale potremmo dire così primo ministro Conte allora le parole coraggio di Giuseppe Conte sulla mafia a cura di Savergolo Dato subito sotto le ultime ore le news degli ultimi degli ultimi minuti poi ancora a taglio medio i video di antimafia2000 la presentazione del libro Avanti Mafia di Savergolo Dato dunque si va poi in mafia news allora mafia tal conferma lo scioglimento del comune di Borghetto rispinto il ricorso proposto dall'ex sindaco a cura di antimafia2000 poi è stradato in Italia il boss dei due mondi Vincenzo Macri era stato arrestato a giugno a San Paolo questo è un articolo sempre a cura della testata antimafia2000 ed ora quelli che sono i potremmo definire gli articoli più importanti di effetto iniziamo subito con il primo si insiede il governo Conte cosa ne sarà della lotta alla mafia poi ancora abbiamo quest'altro articolo andiamo piano perché qui c'è l'orgullo che sfugge via allora Scarpinato i graviano non parlano per paura di chi ha impedito a Falcone di indagare sui rapporti gladio-mafia questo è un articolo tratto da 11 luglio 1992.com c'è anche un video poi andiamo avanti qui c'è un articolo che fa davvero pensare fino in fondo ma quando dico in fondo vuol dire proprio dei capelli fino giù al praticamente al suolo vi dico che articolo è il Bildenberg e la mafia Club Bildenberg un articolo scritto dal direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni dunque vi leggo solo due righe per dare un attimo meglio l'idea perché veramente tra due giorni il gruppo Bildenberg fondato da Rockefeller tornerà a riunirsi dal 7 al 10 giugno nel suo consueto incontro annuale la sede scelta per questa edizione del 2018 è la città di Torino e qui portete l'articolo abbastanza lungo vi invito a leggerlo noi non possiamo ora leggerlo tutto perché per motivi di tempo altrimenti andiamo fuori con tutto il panesesto di prima serata ma io ve l'ho segnalato e vi dico per la seconda volta leggetelo perché emergono delle situazioni che fanno davvero pensare dalla testa fino all'asfalto per terra al suolo dunque andiamo avanti altro importante articolo scotti il rischio di nuove bombe sempre presente la lucida analisi dell'ex ministro dell'interno al salone del libro di Napoli di Lorenzo Baldo e Miriam Cucco anche questo è un importante articolo da leggere perché molto probabilmente qui emergono delle informazioni che vanno in profondità su questa questione mafia è stato mafia eccetera quindi vi invito anche qui a leggere entrate nella testata giornalistica nel corso della quale vi sto facendo la rassegna stampa ve la ricordo antimafia2000.com 2000 scritto in lettera antimafia2000.com andiamo avanti adesso con altri articoli dunque veniamo alla sezione alternativa Pandora TV dunque non siamo razzisti siamo populisti e antisistema tratto da Pandora TV questi sono video sono dei filmati che vengono estrapolati dalla televisione di Giulietto Chiesa Pandora TV punto it poi ancora cosa fare dopo il transiente anomalo di Giulietto Chiesa dalla guerra di Siria e della crisi europea e mondiale da Pandora tv punto it arrivati a questo direi di passare adesso all'altra testata pianetaoggtv punto net sono le 22.16 questa è Radio Science tv radio science punto it emittente radiofonica e anche televisiva internet di Treviso adesso vediamo di proseguire con l'osservatorio antimafia allora la rassegna di pianetaoggtv punto net in primo piano si insedia il governo Conte cosa ne sarà della lotta alla mafia in collaborazione con la testata antimafia 2000 altra notizia molte volte troverete degli articoli che sono stati estrapolati dalla testata antimafia 2000 questo perché abbiamo una collaborazione un po' un trio diciamo pianetaoggtv radio 6 OZ tv antimafia 2000 pandora tv poi ancora andiamo avanti pianetaoggi reporter il nostro settimanale palermo ricorrenza delle stragi di mafia intervista esclusiva al pm di palermo antonino di matteo processo stato mafia a seguire interviste a lunetta savino attrice saverlo dato giornalista scrittore armando carta della scorta civica adriana gnani scorta civica in collaborazione con la testata antimafia 2000 di circuito rtv digitale terrestre interregionale con radio science tv online di treviso redazione conduzione a cura del sottoscritto poi ancora tutti gli interventi dei relatori nel convegno quindi qui potete avere un attimo la panoramica cosa è stato detto da ciascun relatore e anche qui vi invito a leggere perché emergono delle considerazioni molto molto importanti poi ancora libro di lodato avanti mafia parola alla stampa di giorgio buongiovanni qui vediamo ritratto saverlo dato mentre rilascia un'intervista al tgr di palermo quindi all'interno c'è anche il nostro settimanale che prima vi ho ricordato poi si prosegue la diretta quello che c'era perché adesso non è più disponibile comunque c'era la diretta streaming dell'evento perché insieme a radio serie tv anche pianeta oggi tv ha trasmesso l'intero evento nel pomeriggio del 27 maggio scorso poi si prosegue altri articoli importanti stragi e falcone non vogliono la verità di giorgio buongiovanni stragi 92 scarpinato ancora troppi segreti il procuratore generale di palermo al convegno sul falcone borsellino a cura della testata antimafia 2000 in primo piano ecco questa era una notizia che avevamo messo in primo piano anche perché non è stata data poi da nessun'altra testata nazionale questo è un po' un classico adesso quando sentite di cosa si tratta capirete allora diffamazione contro di Matteo condannati sgarbi e sallustri su il giornale Rina veniva definito complice del magistrato vi lascio a voi trarre tutte le più ovvie conclusioni io non voglio nemmeno perdere il minuto perché talmente la cosa parla da sola talmente evidente che quindi comunque ripeto per questa cosa qua diffamazione contro di Matteo sono stati condannati sgarbi e sallustri andiamo avanti vediamo se riesco abbiamo ancora un minuto per darvi un'altra informazione che trovate sulla home page di pianetaoggtv.net si tratta del nostro settimanale dove si parla di un progetto molto importante quella che è la legalità da portare nelle scuole progetto Legin legalità giustizia informazione intervista a Pino Roveredo garante per i diritti dei detenuti in friluense Giulia a cura di Maria Marzullo presidente dell'associazione Terra Mater di Bruniera vi ricordo anche il sito internet per maggiori approfondimenti blogterramater.it a seguire la presentazione del libro Quel Terribile 92 di Aaron Pettinari Aaron Pettinari lo ricordo è il caporedattore della testata antimafia 2000 dunque alla fine il settimanale prosegue con l'importante intervento di Beatrice del gruppo Our Voice Movimento Culturale Internazionale il tutto in collaborazione sempre con RST Science Radio Science punto it e il circuito del digitale terrestre questo per quanto riguarda pianetaogitv.net 22.20 questa è Radio Science TV Radio Science punto it state ascoltando il programma di approfondimento settimanale pianetaogitv.net scusate osservatorio antimafia allora vediamo adesso se la regia è pronta chiedermi a Rosario possiamo mandare dall'intervista esclusiva al PM di Palermo Antonino Di Matteo realizzata il 27 maggio scorso in occasione del convegno nel quale ricordo ancora è stato presentato il libro di Savergolo Dato Avanti Mafia allora Rosario come siamo lì? ci siamo allora quando vuoi mandiamo subito il video perfetto quindi a questo punto la palla ritorna a te nuovamente benissimo video partito ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento vi proponiamo un'intervista esclusiva al PM di Palermo Antonino Di Matteo il sottoscritto lo ha intervistato in occasione di un importante convegno che si è tenuto a Palermo all'interno del quale è stato presentato l'ultimo libro del giornalista Savergolo Dato dal titolo Avanti Mafia dunque può partire subito il primo servizio tutti i libri di Saverio Rodato tutti molto belli molto interessanti le interviste a Giovanni Falcone al pentito di mafia Giovanni Brusca all'alora procuratore di Palermo Piero Grasso a Saverio ti dico questo secondo me è il più bello perché contiene delle analisi lucide mai banali mai conformistiche partendo dal ragionamento su questioni che riguardano mafia e antimafia in realtà sulla situazione della democrazia del nostro Paese sullo stato dell'arte su quella che è in questo momento la situazione della democrazia della Costituzione della mancata applicazione della Costituzione in troppi punti e per troppa larga parte nel nostro Paese durante il processo stato mafia i media erano presenti o c'è stato un silenzio stampa? Diciamo che rispetto alla gravità delle imputazioni e rispetto alla gravità dei fatti contestati forse questo processo non è stato seguito adeguatamente soltanto in alcune occasioni la stampa è stata la stampa dei fatti che per l'america è una proposta di vero che è diverso proprio perché sono proprietari sono proprietari di una ragione stragista stragista che credo che va ancora o per l'america o per l'america lei ha parlato anche di assoltenza storia senza scendere senza scendere senza scendere senza scendere senza scendere senza scendere che stabilisce che uomini dello Stato hanno trattato con i capi di Cosa Nostra nel momento in cui saltavano in aria i miei colleghi magistrati e il paese veniva gettato nel panico dagli attentati del 93 io credo che si possa sicuramente definire una sentenza storica che per la prima volta diciamo riguarda la condanna nello stesso processo di mafiosi uomini delle istituzioni e uomini che hanno fatto da intermediari tra i mafiosi e la politica e tre governi diversi ultimissima possiamo aspettarci un cambiamento su questo paese da oggi in poi seppur minimo ma che ci sia un cambiamento in positivo guardi ognuno deve fare la sua parte la magistratura deve fare la sua parte ma la ricerca della verità sulle stragi e più in generale la lotta alla mafia non dipendono soltanto dalla magistratura dipendono dalla magistratura dipendono dalla politica la politica la lotta la vostra è una periodità la nostra demonstrazione la nostra complessa la ringrazio molto non mi ringrazio non mi ringrazio riprendiamo 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 dai sogni avanti ne sognaziamo 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 ne assagione saverga lodato e quindi i ragazzi della scorta civica noi ci sentiamo ci vediamo al termine per scrivere ciò che si pensa Lunetta Salina Chi sono loro e chi siamo noi? 19 novembre 2015 Chi sono loro e chi siamo noi? A noi piacciono i magistrati antimafia quando sono vivi quando vengono messi in condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro quando vengono incoraggiati, incitati, sostenuti ad andare avanti quando le massime autorità del paese li indicano ai cittadini come esempio di virtù civica e risorsa alla quale attingere per la costruzione di un'Italia migliore A noi piacciono i magistrati antimafia quando non vengono percepiti come un fardello fastidioso dal quale tenersi alla larga o peggio ancora, quando vengono additati come un male oscuro da ostacolare, intralciare, combattere e infangare A loro invece piacciono i magistrati antimafia solo quando sono morti quando le loro vite sono ridotte a lapidi con nome, cognome, date di nascita e di morte ultima stazione della loro disperata via crucis perché a loro piace poter dire che il magistrato morì coraggiosamente nell'allettimento del suo dovere a noi no, è così difficile da capire ma chi sono loro? Loro sono quelli che sanno fare solo finta di niente che sanno girare a meraviglia la testa dall'altra parte che non sapranno mai dire evangelicamente sì sì, non no che stanno eternamente alla finestra per fiutare da che parte soffia il vento che non vogliono ricordare che non vogliono ricavare lezioni dal passato e dalla storia di quanto accatte che pretendono di narcotizzare gli interrogativi la volontà di cambiamento, lo svegno, la rabbia di quei cittadini che non ci stanno sono loro è di loro che stiamo parlando quelli che sono anche riusciti a far finta di niente di fronte alla manifestazione del 14 novembre a piazza Santi Apostoli a Roma indetta per esprimere solidarietà a Nino Di Matteo quelli che sui loro giornali non hanno scritto una riga con la scusa che l'antimafia è cosa vecchia è una storiaccia che riguarda la Sicilia ossessione di pubblici ministeri con la sindrome della star di colpevolisti senza scrupoli di avventurieri faziosi che non fanno altro che riscaldare una minestra che agli italiani risulta ormai irrimediabilmente indigesta sono sempre loro quelli specializzati in anniversari e cerimonie parate di stato e ceste di fiori in memoria dei caduti quelli che l'antimafia migliore la vedono ben rappresentata da un'interminabile fila di statue quelli che non concepiscono l'idea che l'antimafia non debba essere declinata a futura memoria perché fin quando la mafia non ricorre all'uso delle armi non è necessario scaldarsi più del necessario loro amano vivere senza scosse in un letargo assistito in cartapecoriti nelle loro certezze senza slanci confidando nella cupa solidarietà di legioni di indifferenti sono sempre loro quelli per i quali se proprio la mafia sa da combattere si combattesse pure ma guai a volersi mettere in testa di volerla sconfiggere per sempre perché se in Italia c'è da un secolo e mezzo non riescono a capacitarsi che a qualcuno sia venuta la bizzarra idea di collocarle in un museo ora che siamo nel terzo millennio sono loro quelli che simpatizzano con corrotte e collusi politici politici pregiudicati indagati condannati che siano affaristi e faccendieri boss picciotti latitanti colpevoli che magari vengono assolti in un'aula di tribunale al grido di battaglia così fan tutti perché così è più comodo e rassicurante per quell'etargo delle coscienze che semplifica la vita abbiamo veramente il caso di dire l'onore di avere un volto noto della radio televisione italiana della radio tv lunetta Savino noi la ricordiamo con la fortunata serie al televisiva un medico in famiglia quindi lei ha una come dire una gamma molto varia dal brillante al drammatico nei panni della madre di Peppino Impastato ecco cosa ne pensa della fiction può effettivamente contribuire a sensibilizzare il problema questo grosso problema della mafia che abbiamo in questo paese io credo che assolutamente sì perché ha gli strumenti naturalmente del film delle emozioni e anche pedagogico cioè la tv di stato secondo me pubblica deve assolutamente far conoscere certe storie e certe persone che sono realmente esistite e che hanno come dire combattuto strenuamente contro la mafia e insomma di fiction se ne sono fatte tante su questo argomento naturalmente io faccio la mia parte perché ho avuto l'onore insomma di interpretare certi personaggi come sicuramente come Felice Impastato ma anche ho fatto un altro film qualche anno fa sulla storia di Silvana Fucito che era appunto un'imprenditrice napoletana a cui bruciarono il negozio quindi sono tutte storie vere che come dire danno la possibilità al grande pubblico di conoscerle insomma e quindi sicuramente di perlomeno di conoscerla di conoscerle che noi conoscemmo vedemmo lavorare e vedemmo morire qui con noi Saverio Lodato noto giornalista antimafia dunque inevitabile domanda una un commento sulla storica così è stata definita sentenza stato mafia è una sentenza storica perché per la prima volta una corte d'assise la corte d'assise di Palermo presieduta da Alfredo Montalto il giudice alatere Stefania Brambille e giudici popolari mette nero su bianco che la mafia trattò con lo Stato che lo Stato trattò con la mafia e che altri rappresentanti dell'arma dei carabinieri scesero a patti con i mafiosi durante questo processo secondo lei le istituzioni in media i nostri colleghi praticamente sono stati corretti nel seguire questa cosa? Hanno fatto di tutto per occultare il processo questo processo metteva paura questo processo è durato oltre sei anni chi lo ha portato avanti coi magistrati che lo hanno portato avanti lo hanno portato avanti in un clima di assoluto isolamento di delegittimazione di denigrazione e di autentiche campagne di odio e di fango da parte di molti giornali e molte televisioni e per concludere i giovani cosa possiamo dire di fronte a questo scenario? che in Italia c'è una parte per bene che nonostante tutto riuscirà a farcela grazie e qui in occasione di questo importante convegno abbiamo anche l'onore di conoscere una persona molto importante che è molto attiva nel sociale proprio per questa causa giusta qui vedo anche un'altra tua collega Adriana Gnani che saluto voi siete molto attivi perché sentite questo problema che c'è non solo in Sicilia ma anche in Italia sì siamo impegnati diciamo nella difesa dei magistrati che sono impegnati nel processo trattativo a Stato-mafia sappiamo che c'è del 20 aprile scorso la sentenza di primo grado che ovviamente abbiamo apprezzato erano in pochi a credere in quella che potesse esserci una sentenza positiva a cinque anni di lavoro e quindi noi come scorta civica siamo nati proprio per cercare di fare sentire il nostro sostegno ai magistrati specialmente a Nino Di Matteo che sappiamo rischia la vita da anni purtroppo tre anni fa anzi nel 2013 fino al 2013 si è saputo che erano arrivate a Palermo circa 200 kg di tritolo per attentare alla vita del magistrato e quindi siccome siamo stanchi di fare commemorazioni noi partecipiamo sempre alle commemorazioni però vogliamo pure fare sentire il sostegno ai magistrati nel momento in cui loro possono portare avanti il loro lavoro e quindi è nata scorta civica parliamo del processo trattativo nelle scuole facciamo vedere e sentire il nostro sostegno ai magistrati abbiamo partecipato alle udienze che si sono tenute all'Aula Bunker in questi lunghi cinque anni avete seguito attentamente è questo che vi colpisce sì sì abbiamo seguito attentamente anche perché purtroppo di questo processo abbiamo capito che i media le televisioni i giornali hanno parlato molto poco purtroppo sappiamo noi ad esempio abbiamo fatto partire qualche settimana fa una raccolta una petizione perché chiediamo ai dirigenti dell'Arrai di poter vedere un film documentario fatto molto bene perché la Guzzanti Sabina Guzzanti prima di realizzare questo film si è documentata abbondantemente purtroppo dai vertici dell'Arrai sappiamo che non sono molto propensi già oltre 22.000 persone hanno sottoscritto questa petizione chiediamo di continuare perché speriamo che si convincano perché di questo processo è giusto che gli italiani gli abbonati in Rai conoscano qualche cosa e questo film è fatto questo film documentario è fatto decisamente bene lei prima ha toccato un tasto molto importante la legalità nelle scuole vorrei sentire a tale proposito Adriana Agnani cosa ne pensa quanto è importante promuovere la legalità nelle scuole noi come Scorta Civica come ha detto il mio compagno collega e combattente lavoriamo nelle scuole perché noi vogliamo sensibilizzare i ragazzi a questa cultura alla legalità per conoscere che non esiste non esiste in Sicilia specialmente in Sicilia perché è molto sentita la mafia è molto sentita il bullismo nelle scuole dunque noi stiamo lavorando appunto portando dei progetti dei progetti dei video una cultura nuova stiamo cercando di portare una cultura nuova per questi ragazzi affinché loro abbiano un'altra alternativa che non è solo avere paura di uscire di casa avere paura di approcciarci con il prossimo questo stiamo facendo io vi ringrazio entrambi buon lavoro a tutti grazie a voi grazie riprendiamo da studio termina qui il nostro speciale pianeta oggi reporter grazie per l'attenzione appuntamento come sempre alla prossima settimana sempre agli stessi orari benissimo gentili ascoltatori riprendiamo con l'osservatorio antimafia volge infatti al termine questo nostro approfondimento giornalistico all'interno del quale abbiamo incluso anche il nostro settimanale pianeta oggi reporter che è quello che va anche sul digitale terrestre dove abbiamo ascoltato un'intervista esclusiva ad Antonino Di Matteo PM di Palermo ricordo il processo stato mafia con una sentenza che è stata definita storica a seguire avete ascoltato l'intervista a Lunetta Savino nota attrice e poi a Savergolo Dato scrittore giornalista antimafia e quindi alla scorta civica Armando Carta e Adriana Gnani quindi siamo partiti con la rassegna stampa di antimafia2000 pianetaogitv.net adesso sono le 22.39 l'osservatorio antimafia termina qui ringrazio per l'assistenza in regia Rosario Moreno che questa sera ha avuto anche abbastanza da fare con alcuni problemini che si sono presentati ma come sempre tutto è andato a posto e la trasmissione è riuscita senza alcun problema quindi un doppio grazie questa sera a Rosario allora amici ascoltatori io vi ricordo che questo programma ritornerà la prossima settimana sempre allo stesso orario ore 22 se fate antimafia e quindi il nostro settimanale in rotazione sullo streaming Science TV Pianeta Oggi Reporter per coloro che ci stanno ascoltando dall'alto Adriatico vi segnalo che tra circa mezz'oretta intorno alle ore 23 sulla televisione terrestre interregionale video telecarnia sarà trasmesso il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter dunque da Massimo Bonella dalla regia centrale Rosario Moreno un grazie per averci seguito un buon proseguimento con i nostri programmi dunque a presto 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 a presto